La comunità di Fontanelice, io faccio una breve riflessione, oggi è anche la festa dello sport, la festa nazionale, che anche Fontanelice ha voluto insomma ricordare. Lo sport è come modo di stare insieme, nel rispetto delle regole, il vivere in una comunità, l'imparare a giocare, l'imparare a vivere allegramente stando insieme e non sempre solo davanti ai giochi costruiti. Domani c'è un'altra data importante, è la festa della Repubblica il 2 giugno. L'Italia ha sceso a suo tempo fra la monarchia e la Repubblica in un paese democratico, in un paese libero, con dei valori di fondo. Questa sera siamo qui in piazza, ed è tradizione, per festeggiare l'Avis. Possono sembrare date che non hanno filo conduttore, che sono vicine solo da un punto di vista temporale. Ma io penso che ci sia un filo conduttore. C'è il vivere, la comunità, il donare, l'appartenere, la solidarietà che sta tagliato, il donare agli altri, il donare il proprio tempo, il donare scambio. Il fare che questo paese libero, democratico, contiene ad essere un paese libero, democratico, con delle vere persone che vivono e appartenengono alla comunità. Guardate che può sembrare una fase costruita vivere e appartenere. Non lo è.